Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio su Sword Art Online Lost Song L'ultima volta ci eravamo lasciati che dovevamo andare al bar o quel cazzo che era per andare ad accettare una missione secondaria Quindi andiamo subito e vedo anche che c'è una missione nella casa Ok andiamo al bar, locanda o quel che è Ok Ah ok, banco missioni Vabbè era ovvio di una ricompensa se no non le facevo nemmeno Cambiano nel tempo Ok, va bene Ok, proviamola Non c'è problema Però quello che vi voglio chiedere C'è qualcos'altro da fare? Si può parlare? Credo che siano di due tipi Quelle in cui uccidi gruppi di nemici per ricevere degli oggetti Ah ok, va bene Praticamente sembrano le missioni di Monster Hunter Di quando le vai a prendere dal Non mi viene mai il nome Però c'è il posto dove puoi prendere le missioni e le vai a fare anche in cop Ti do il benvenuto nel banco missioni Ok, certa missione Caccia, schiaccia la cosa blu Ok Vabbè non è che Sconfiggi 30 melma Ok Ok, va bene Vicino al mulino dobbiamo andare Ah ci dà anche dove Ok Vabbè andiamo allora Andiamo e facciamola veloce Anche se però 30 cazzo sono molti È un po' palloso Ok, eccoci qua Allora Dobbiamo andare credo là Controlliamo bene Sembrerebbe di là Infatti c'è un mulino anche Quello che però voglio capire è Quali sono i mostri che dobbiamo uccidere Forse sono quelli lì volanti No, 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 no Dove cazzo Madonna si è incasinato tutto Ok No, non è ancora qua Ah ok, sono quelle cose là Va bene Capito Ma Ma Oh Ok Ah parte proprio il video Ok, va bene Bel mostro Guarda Ok Eliminiamo lì alla veloce Sarà un po' palloso Non so se dopo questo video Porterò altre missioni secondarie Sul canale Perché se sono tutte Di uccidere mostri Sinceramente Non le vedo molto Interessanti Vedremo comunque Ok Dove posso vedere Quanti me ne mancano Oh è mortale E crepa Ok Ti fidi ciecamente Asuna Va bene Beccatevi questo Ma dai Non sono neanche morti Ok Andiamo ad eliminare Quelle melme blu Ok Però non capisco Da dove Dove si può vedere Quanti ne mancano esattamente Bam Beccatevi questa Tripla Ok Ne avrò Ne avrò già eliminati Una quindicina Forse Aia Mi ho fatto male Aia Ok Non capisco Perché alcuni Li uccidi Instant E altri no Vabbò Dai basta Ok Facciamo così Bam Distrutti Li elimino Non so il perché Però Più che altro Perché mi dann fastidio Sti robi verdi E poi Sono immortali Cioè Oh Mo crepi Bastardo Ok Gli HP Vai così Oh L'ho schivata Incredibile Ah Hai sconfitto La tua preda Ah ok L'abbiamo finita Vabbè Andiamola a consegnare È stato anche veloce Ok Aiuto No Non devi volare Così in alto No Ho perso Tutta la stamina Incredibile Ma perché Non me lo fa Boh Non riesco a capire Il volo ancora Sinceramente Cioè Ci sono volte Che lo fa Ci sono volte Che non lo fa Lo scatto Boh Ok Fatto Andiamo Sì C'è Le trasporto Alla città Fluttuante Ricompensa Sì Benvenuto Porta termine A una missione Ok Vabbè Era facile Però pallosa Devo dire Ok Va bene Iniziamo con un giro di prova Ok Non credo che ce ne siano altre Non credo proprio No infatti Va bene Va bene Va bene Andiamo a fare la quest principale Che ci dava Nella nostra casa Ok Facciamo sta missione principale Ok Nel corso di questo evento Avrà luogo un combattimento Vuoi davvero avviarlo Ok Andiamo Ok Ok No è in versione gigante Aiuto Ok Voglio fare una foto di noi tre Tutti insieme Ok Ok Andare fuori città Andiamo fuori città A fare la foto Vai Le missioni principali Ok 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 Ci hanno già fuori Perfetto Ok 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 Mi piace andrà all'avventura Va bene Va bene Va bene Ok Va bene Ok Scegliamo il papà Va bene Andiamo Ok Ok Se è una missione Se è una missione Se è una missione Se è una missione Eh beh Ebbè Eh beh Va bene Va bene Va bene Ascoltiamo la sua storia Ok La terra è spoglia Io vedo erba dappertutto Però vabbè Forse sono io stupido Io vedevo l'erba Mentre andavamo in giro Però Abominio Ok 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 Sconfiggete il mostro E salvate il mio villaggio Va bene E' la tipica missione In cui bisogna uccidere un mostro Ok Grazie Grazie E' dove c'è il fiume Ah Di Moramonte Dove scorreva il fiume E' fatta attenzione Vabbè Faremo attenzione Ma non credo che serva Più di tanto Ok Ok Oddio Ancora quegli slime blu Di prima Oddio E' gigante questo Cioè Manco ci hanno fatto esplorare Siamo già arrivati al mostro Va bene Ok A me va bene Meno cazzate da fare In generale Però Non bisogna giudicare Dalle dimensioni Può essere anche gigante Poi è Agilissimo Quindi non ha senso Ok Come faresti ad assisterci Visto che non sei neanche una persona reale Sei praticamente un NPC E sei un cheat Come ci fai ad aiutare Ora voglio saperlo Cioè Se ci lancia le cure Questo è un cheat Veramente Ok Oddio Perino Proprio poco gigante Non capisco perché Mi tiene quello lì Oh Madonna Ma che volo Ma basta Cos'è sta stronzata Beccatevi questo va Ok No ma Oddio Quando chi ha Non voglio che cambi così Madonna Ok Oddio Vabbè Ero dietro di lui È Dragon Ball Sto gioco Va bene Stavolta era in cielo Ma mi ha schiacciato Non so cosa sia successo Ma va bene Va bene Curiamoci Ok Spade Cosa succede Ah Voglio scappare Voglio scappare Basta Vai così Oh ma non muore È mortale Cazzo non ho più mana Aia Ah Porca puttana Ok cura Alla veloce Ti odio già Oh Finalmente Ci scommetto Che ho sconfitto Quello sbagliato Ah no Ci scommetto Che dobbiamo eliminarli Tutti Ancora peggio Ok Venite qua Va Ok Credo che siamo quasi finiti Dai Ancora pochissimi Ce ne ce l'hanno Grazie Asuna Ah ma Ok ok Ora l'ho visto Yui proprio non c'è È tipo Fake La storia Che ci aiutava Vabbè Dai Dai su Ok Eliminato Manchi te Oh Ce l'abbiamo fatta Sì Complimenti Ok quindi Oh Va bene Ok Probabile Perché la musica è finita Ok abbiamo il vero mostro Stavolta Ok Scopriamo Cos'è successo Ok Va bene Pensavo che stesse per esplodere tutto Ok La ricompensa qual è Ma perché Asuna ha queste fake reaction Vabbè Guardate Che cosa Deve averlo creato quello zampillo d'acqua Ok Ho un'idea Facciamo la foto qui Ci scommetto E infatti E beh Ok Bellissima foto Ok Maniaci delle foto Vai così Comunque direi che per questo episodio è tutto Come sempre se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate E iscrivetevi E al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie.